Grazie a tutti. Il tentativo dal limite di Ferrani tenuto d'occhio da Landini. Al trentaseiesimo il giovane portiere Alessandrini sale in cattedra intervenendo su Paniconi ma è attendista al quarantatreesimo sull'inzuccata di Carletti Orsini lasciato però libero di agire. Due giri di lancetta più tardi e i rosso-blu accorciano le distanze con il destro preciso di Muratori chiamano tutti i nomi spogliatori. Con le immagini di Fosso Travaglini si passa alla seconda frazione che riparte in salita per gli Adriatici. Al terzo minuto Sabatini contato in aria con Cinotti dagli undici metri Messina non sbaglia. Il gabice gradare non si abbatte con capabilità ribalta il risultato. All'ottavo giunge il centro di Facondini. Otto minuti più tardi in lunga gittata di Sabatini. Prolunga Rossi, Muratori nel corridoio, centra il Lob che vale il 3-3. Al ventesimo il Mondolfo sale in cattedra ma è Alessandrini a metterci una pezza. Cambio di fronte al trentaquattresimo scatenato Santucci sull'arteria di sinistra in mezzo per la girata di Rossi che infila nell'angolino basso. I giochi sembrano conclusi ma al quarantacinquesimo il Mondolfo guanta il pareggio ad opera di Italia Vento e chiude l'incontro sul 4-4. Al termine della contesa le parole del tecnico del Mondolfo Marco Franceschelli e del tecnico del gabice gradare ex Mondolfo Roberto Barattini. Partita strana, difficile da commentare perché due volte in vantaggio noi e sinceramente se fossimo andati sul 2-0 al primo tempo probabilmente saremmo rientrati con un altro piglio. Di fronte avevamo una squadra che non ha mollato niente, ci ha creduto, ha trovato il gol del 3-2 quasi subito che gli ha ridato fiducia. Siamo riusciti a fare subito il 3-1, che dire, siamo andati addirittura sotto. Quindi a quel punto era drammatica dall'altra parte, siamo stati bravi a crederci, a provarci fino alla fine. Chi ha visto la partita non si è annoiato, perché 8 gol è che capitano tutte le partite. Ho dell'ingenuità, nonostante che siamo vivi, abbiamo reagito abbastanza bene, ho forse la troppa paura di vincere o purtroppo abbiamo subito il 4-4. Comunque ai ragazzi non gli si può rimproverare nulla perché penso che è andato l'anima. Grazie. Grazie.